E' di tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto sulla bretella autostradale 640 che conduce all'autostrada 19. Coinvolti due mezzi, una Subaru e una Peugeot 205. Lo scontro è stato frontale, tutti uomini coinvolti. Sulla Subaru due carabinieri nisseni, distanza Petralia. Sul posto per i rilievi è intervenuto il personale della stradale di Canigatti. I feriti sono stati accompagnati dal 118 all'ospedale Sant'Elia, nessuno in gravi condizioni, non si conoscono ancora i dettagli della dinamica dell'incidente.